stanno mancando maestro muoio così os ragazzi oggi siamo di nuovo qua con il maestro luigi dopo il primo allenamento abbiamo deciso di fare anche un esercizio un allenamento un video allenamento di condizionamento che abbiamo detto che è una cosa molto importante non è che l'abbiamo solo detto l'ho anche provato l'ho anche provato sulle mie gambe e sui miei addominali è una cosa molto importante in questa disciplina così come in tutti gli altri sport da combattimento il condizionamento gli arti devono reggere comunque quello che vai a fare perché se tiriamo un pugno ma il polso non regge il braccio non regge il calcio il polpaccio quando prende un colpo se il quadricipite non regge o la tibia non regge purtroppo finisce il coso dopo veramente pochissimo puoi essere bravo quando vuoi noi diciamo finì un film ora ti chiedo maestro magari qualche vedere un paio di esercizi sul condizionamento cosa propone la casa il menù dello chef sempre in base alle mie esperienze tutto storico cosa sono andato a ricercare dei materiali che non abbiano solo la rigidità assoluta ma anche un'alta resistenza e un minimo di assorbimento è uno di questi materiali fortunatamente grazie ai tanti amici che mi ritrovo a avere è questo tipo di gomma che ha una densità pazzesca però ha un minimo di affondamento di qualche millimetro neanche diciamo se io non lo sento questo affondamento e questo noi lo utilizziamo per i colpi sempre le prime due nocchie giusto? sempre le prime due oppure le tibie ok in questo caso io posso questa è una cosa che hai inventato te ragazzi qua tante cose qui mi ritrovo una durezza adatta perciò estrema con quel giusto grado di assorbimento che è come se dovessi colpire una parte muscolare ok perciò ho una densità ancora superiore però il congetto riesco a indurire senza fratturare troppo ok perciò al massimo qualche microfrattura che ci può anche stare avendo le varie altezze anche la gamba lavora sulle varie altezze di condizionamento perché anche questo dobbiamo renderci conto che la tibia non va condizionata solo qui ok va condizionata da qua a qua ok obbligatoriamente perché io non saprò mai a che altezza parunghe da ma guasci perciò devo abituarmi e questo è un lavoro se lo vuoi provare ok sì certo proviamo perché è a metà perché tutto è studiato perché se guardate l'altezza è legato e milf ah ok quindi esattamente io preparo il kyoku shinkai già solo colpire qua sopra volevo far vedere un attimo le mie mani in che condizioni erano che comunque colpendo andando a colpire con le prime due locche vai a creare una parte una cosa di dolore veramente assurda e poi anche le tibie che c'ho già praticamente sono tutto sono già tutto rosso volevo parlare un po' della mi dicevi abbiamo la fortuna qua in italia di avere uno dei maestri di kyokushin veramente importanti uno dei più importanti al mondo non perché è il mio maestro e tutto ma perché realmente nei libri di storia del kyoku shinkai parliamo del braccio destro di sosai un maestro che è sempre stato vicino a sosai in vita durante gli allenamenti era istruttore degli ucdeci a tokyo e il nostro maestro che è oltretutto il viva messina che è shan tsutomu vakyuchi ok quant'è mia tra l'altro? shan ci siamo ormai superati i 60 ma parliamo ancora di un è ancora atletico? no parliamo di un essere superiore vedere praticare il karate kyoku shinkai a shan ti fa capire che in fondo siamo cinture bianche ma penso anche a livello mondiale c'è così tanto un livello di solo vederlo muovere solo vedere la precisione del suo movimento nei katà nelle forme nel combattimento oltretutto parliamo che è stato anche uno dei dieci uomini più forti al mondo quando il kyoku shinkai era la disciplina estrema per eccellenza ci sono riviste che ne parlano e lo nomino tra i dieci più potenti kyoku shinkai al mondo ok secondo esercizio? questo si chiama il pupo perchè io tutte le cose che credo gli ho dei nomi che merda c'è un nome allora qua cosa faccio? vado in posizione kyobaraci che di per sé è già molto potenziante prendo il centro che è lo sterno e e questo è per sempre le nocche e mi concentro in questo caso mi metto in questa posizione qua prendo l'altezza dello sterno la riporto qua con un bugno e l'altro torna qui questo già è ok ah diciamo H una cosa importante del condizionamento non vi fate prendere dai film mezz'ora le mani dentro perciò fate piano fate poco neanche ogni giorno quando guarisco ricomincio quando guarisco ricomincio perchè il corpo va rispettato il corpo è un dembio un altro lavoro importante è lavorare giusto con questa parte del piede perciò quella sotto le dita ad esempio qui al muro io lo faccio mi appoggio l'importante è che tocchi la punta del piede un altro lavoro per indurire bene i piedi per questo tipo di calci per chi ce l'ha io me lo sono fatto costruire dal mio amico maestro Abate di Caltanissetta sacco da 100 kg questo sarà un po' di più appoggiato ok l'impatto deve essere questo ok perciò vai quando poi non c'è la possibilità ma queste cose anche sacco pesante va bene devo sempre pensare di fare un buco perciò se vedo che lui gira troppo si muove troppo oppure la forma non è pulita significa che non sto colpendo bene perciò guardate sacco per sapere come state colpendo so che comunque ad esempio in discipline come ad esempio tipo il win tune capita comunque che si fanno le riprese di spara in col maestro per imparare non ci sarebbe modo io ti ripeto le parole del mio primo senpai mauridio sai che oggi è un atleta dell'Ironman perciò rendiamoci conto di che caratura atletica stiamo passando è abbastanza duro e quando ero ragazzino e lui era il mio senpai per cui ho ricordo sempre l'affetto di legame incredibile lui mi diceva fa non è la gara Luigi che mi spaventa ma è quando Sean viene a riscaldarci mamma mia pensate perché c'è andava la gara è una passeggiata fa Sean e impattare contro una forma di energia e di potenza assoluta e stiamo parlando di atleti ed è più o meno quello che ho provato io oggi no 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 impattavo sopra degli addominali o sopra delle tibie superiori proprio di ascia ecco in confronto io sono uno zero virgola ecco per capire Sean cosa è porca già questo si fa capire più o meno il livello magari di un atleta che ha dedicato la sua vita assolutamente lui mi raccontava che quando è arrivato da poco tempo in Italia per allenare gli agonisti si è sempre svegliato presso la mattina faceva all'ingirca 5-6 allenamenti prima del turno agonisti per evitare di essere troppo non arrivare troppo carico a turno agonisti porca mia c'è era più una cosa per scaricare le sue energie per evitare di non fargli male ok cos'è questo attrezzo? questo è pure il nome upicceriddo upicceriddo? ah questo è il nome della teatronica ogni cosa è il suo nome ah che bello ti amiamo mi ci affeziono cosa ho fatto? siccome abbiamo delle corde che creano secondo me la giusta morbidezza ok qui hai messo comunque sono degli spaghi questi? sì questa è una corda normale per evitare sempre schegge e cose varie però non ha morbidezza e dura come lei perciò cosa va a fare? prima i colpi di sciuto taglio della mano poi vado a fare i colpi con le nocche sotto ah anche le nocche? avambraccio 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 poi lo abbasso comincio a taglio della mano taglio della mano pollice appoggiato cos'è? io colpi scuola ok il primo shinkai diciamo nasce come filone unico e durante l'esistenza sulla terra di sosai è stato lo stile di karate sotto una sola associazione con il maggior numero di iscritti al mondo alla morte di sosai si creano un po' di distinzioni si creano varie che suppongo siano discepoli quindi con ideologie diverse ma neanche tanto diverse perché alla fine la maggior parte per molto tempo è quasi sempre l'ideologia del kyokushin ultimamente da una decina d'anni a questa parte stanno creando delle commissioni tra ad esempio basi di judo lotta a terra kyokushin un kyokushin con i guandoni per renderla magari più completa ma non è questione di completezza perché al kyokushinkai non manca nulla perché come ti spiegavo prima io non devo pensare che kyokushinkai è la forma di combattimento da gara sosai crea le competizioni non professionali perché lui non vuole professionisti ha detto il karate non è roba di soldi perciò non ci devono essere professionisti del karate infatti nel nostro karate non esistono professionisti le cinture in IKK in Italia le può dare solo ed esclusivamente Shansu Tomovakiuchi chiunque si presenti in un dojo può fare esami solo e esclusivamente se durante l'anno ha firmato le presenze i numeri di ore e tutto e solitamente per la prima cintura se ne parla dopo un anno idem per tutte le altre mi sembra giusto questo perché c'è il massimo esponente assolutamente che è lui che decide se no ci possono essere tanti maestri che hanno fatto il corso assolutamente bravissimo hanno fatto il corso hanno visto qualche video non avrebbe valore neanche la cintura bravo perciò se c'è una cintura verde una cintura nera però chi te l'ha data quella se te la dà lui penso che ha una certa ha un certo impatto è un onore cosa vado a fare tutta quella parte lì la parte dell'osso ok sempre sulla parte con lo spago quella morbida sembra la parte morbida dove c'è lo spago puoi fare che prima lo coprisci e poi lo fermi però prima sei sicuro provalo con l'osso non col paratibiale devi sentire il rumore se non senti il rumore significa che non è l'osso va bene pccd2 1 ervin 0 ho perso la sfida contro pccd2 ragazzi qua prepariamo un lavoro che mi abitua alla tenuta degli addominali al lavoro dei pettorali alla resistenza in lavoro da combattimento vado a questa distanza e di fronte ci sarò io che ti do colpi sugli addominali c'è già paura facci più avanti più avanti sembra lavorare con i pugni maestro muoio così sotto sotto addominale lavorate vai 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 bam 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 perché vado sempre più perché devi stare sulle punte perché c'ho paura anche dei colpi sulla dalle ah dai quindi facciamo piano bam 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 continuare addome non si respira con la bocca sempre con il naso solo nasale bravo mettiamo indietro questo maledetto pensa che stanno mancando è difficile già solo tenere questa roba qua in avanti dai 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 c'ho paura dai dai tutto indietro tutto lavoro lungo vai 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 ehi a me dai va bene così non esageriamo mamma mia prima volta che provo un esercizio del genere e ti devo dire ma questa è praticamente tutta invenzione tua sì sì ragazzi è veramente incredibile allora maestro mi dicevi qua cosa mi hai preparato in questo caso abbiamo proprio una cosa Yamamoto Legionarius dedicata ad Alessio Sakara ok cosa sarebbe questa cosa che mi hai detto che mi era aiutare integrare ora vedrai che dopo 5 minuti avrai una ripresa energetica altissima non avrai nessun tipo di appresentimento a livello globale è buono l'olore c'è un mix di aminoacidi vitamine e tutto che ti aiutano a gestire meglio la fatica noi con questo i fighter ci viviamo perché abbiamo bisogno di energia continua ma è buono molto buono come gusto Yamamoto fortunatamente crea proprio dei prodotti quindi sarebbe tipo sali minerali sali minerali e in più delle formule di carboidrato che non hanno peso gastrico perciò non ti danno il refluso non ti hanno fastidio li puoi utilizzare prima durante e subito dopo l'allenamento per tenerti veramente in forma io ormai li uso da da dei geni Yamamoto è un amico perché oltretutto ci aiuta anche a a sopravvivere in questi momenti difficili certo ma il miglior prodotto che ci sia sul mercato veramente buono è un mio pensiero personale perciò mi permetto di dirlo e posso sottoscriverlo ovunque io uso solo Yamamoto da sempre mamma mia quando non ce la fai più sì forse non so se avete capito cosa è successo ma era tipo l'equivalente di 50 kg da alzare con un braccio gomiti stretti gomiti stretti lavorare 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 respira respira guarda guarda l'avversario lavorare lavorare bravo è così si fa questo dai 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 e giù Yamé quando mi sono ammazzata da baseball ho detto questa è quella il riparo perché le rombo le video è quella giusta questo messaggio un battuti le cinture le cinture non contano nulla sono gli uomini che vi danno le cinture che hanno valore perciò è inutile frequentare una scuola dove bravo 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 bianca nera già nel giro di un anno sei che poi magari andate a cercare le scuole dove realmente per passare da cintura bianca a cintura arancione deve cominciare a venire fuori lo spirito del karate del brasilian di qualunque però che sia un maestro che vi rende di orgoglio e l'orgoglio non è che lo fa la passione non è quello che vi comunica con le parole è quello che sentite dentro e quando c'è una storia come quella di Shansu Tomovakyuchi penso che non ci sia neanche da parlare è un monumento vivente a livello mondiale io quando mi permetto di essere amico con sensei del livello di leggi Kurbanov quando parlano di Shansu parlano come se parlasse per qualsiasi lo sai e soprattutto ragazzi in conclusione è veramente un piacere essere venuto qua dal maestro Luigi che comunque voglio dire oltre a e l'ho provato e l'avete visto nel video come mi ha ridotto oltre a essere veramente molto forte e molto competente in quello che fa è rimasto soprattutto molto umile in quello che dice in come parla del suo maestro in come parla di tanti altre persone ritenendo lui magari come proprio per la questione umiltà perché penso che è una disciplina dove ti insegna in primis questo è l'umiltà che ci deve dare una mano verso la meditazione perché se io mi voglio confrontare con il dolore ci sarà sempre un dolore più grande di me se io l'affronto con rabbia questo dolore avrà vinto se invece questo dolore fisico spirituale comincio ad affrontarlo come una prova personale non parlo di religioni io sto lontano a tutti questi scorti ma come una prova personale dove dico voglio mettermi alla prova anche questo dolore può diventare una forma meditativa perciò il dolore alle gambe le tibie il non gelafaccio ad arrivare a centro non deve essere mai un limite e quella è la meraviglia e il viaggio non è l'arrivo fantastico di questo mondo però ha bisogno di persone così che portano poi cose veramente comunque vi abbiamo portato un sacco di esercizi fantastici un sacco di tecniche e teorie è quella che è la base di questo sport e il maestro ci ha messo del suo in questo e si è visto perché tutti questi esercizi magari non è che li prendete e li fate ovunque quindi se vi capita di passare a Iron Dojo Franciacorta ragazzi qua veramente vi assicuro che provate i suoi addominali è pomidita ossia 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 arigatose amassi